Ma a parte quello, io invece trovo, a parte il fatto che appunto hai questo linguaggio che secondo me è molto affascinante, quello che io normalmente cerco nel libri e che non trovo chiaramente in molti degli attori... No, no, affascinante e fascinoso. Insomma, io dico quello che ritengo, poi non è quello che... E che soprattutto è l'immagine, cioè ogni frase brevissima, ogni parola accanto ad un'altra parola dà un'immagine e questa immagine è surreale, quindi mi riporta a una forma di paradosso che alla fine ti porta a condurti durante, cioè tu conduci il lettore partendo da una vastità, diamo un'idea così, per poi il particolare che è normalmente il nocciolo della cosa ed è sempre la fine. E questo trovo che è veramente la tua peculiarità rispetto a molti altri. E devo dire che in questo periodo, proprio parlando, mentre allora c'era sempre tutta una ricerca, ma era una ricerca collettiva ed era una ricerca affascinante perché praticamente c'era un grosso scambio e io trovo che dal punto di vista, lasciando perdere il punto di vista politico, il 68 ci ha portato dal punto di vista letterario una vivacità e una forza nuova che purtroppo è stata però poi assolutamente abbandonata oppure presa molto astutamente dai pubblicitari che appunto usano l'immagine, la metafora, il paradosso come era appunto quello che era allora.